Musica Incendio sul tetto di uno stabile della Fab Group a Gallo di Petriano A domare le fiamme i vigili del fuoco della compagnia di Urbino e di Peso Fatture false nella Ollus di famiglia, 5 denunce e un giro d'affari per oltre 5 milioni di euro Sequestrati immobili, auto, quote societarie, denaro e beni di lusso Un nuovo plesso scolastico sorgerà a Cucurano di Fano E stamattina la posa della prima piega Maxi antenne della telefonia Fano L'assessore Fattori annuncia l'incarico ad una società per un nuovo regolamento Mappatura e misurazione periodica dell'inquinamento elettromagnetico Al lavoro anche per conferenze e convegni Bollette dell'acqua Il Tribunale di Pesaro sentenzia contro l'aumento retroattivo applicato da ASET per il 2018 Le imbarcazioni da pesca della marineria fanese costrette a fare rimessaggio altrove La denuncia di Ilari della Lega che chiede il servizio nel porto turistico Male il turismo di giugno, bene quello di agosto Fano registra un calo di presenze del 3,87% E un aumento di arrivi del 2,18% Tra i mercati emergenti la Polonia e la Norvegia Il telegiornale Occhio alla Notizia si arricchisce della nuova rubrica Arte e Cultura Ogni mercoledì spazio ad artisti e iniziative del nostro territorio Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento del telegiornale di Fano TV Questa mattina un incendio è divampato in uno stabile della Fab Group a Gallo di Petriano Che produce componenti per l'industria del mobile I vigili del fuoco sono intervenuti alle 9 quando è scattato l'allarme per delle fiamme divampate sul tetto Durante i lavori di catramazione Sul posto i pompieri di Urbino e di Pesaro Che in breve tempo hanno provveduto a spegnere il rogo E i vigili del fuoco sono intervenuti anche ad Urbagna In località Monte San Pietro Per un incidente stradale che ha coinvolto due auto Una delle quali rimasta in bilico sul ponte del fiume Metauro I pompieri hanno ancorato il mezzo ed estratto la persona al volante In collaborazione con i sanitari che l'hanno poi trasportata in eliambulanza al Torrette di Ancona E grave incidente stradale anche sulla strada delle regioni Oggi pomeriggio intorno alle 14 nel tratto tra Ginestretto e Monte Labbate Si sono scontrati un'auto e un camion che procedevano nei due sensi di marcia opposti L'automobilista è stato trasportato dall'eliambulanza all'ospedale di Torrette Mentre il conducente del mezzo pesante al pronto soccorso di Pesaro La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso Sul posto anche i carabinieri di Montecchio La polizia locale di Monte Labbate e i vigili del fuoco Un nuovo plesso scolastico sorgerà a Cucurano di Fano per un costo di oltre 5 milioni di euro Oggi posa della prima pietra con il via ai lavori che si concluderanno nell'aprile del 2025 Posa della prima pietra questa mattina a Cucurano di Fano per la realizzazione del secondo lotto Del polo d'infanzia 0,6 anni A fianco dell'attuale plesso scolastico di Cucurano Carrara inaugurato nel settembre 2021 A partire dalle prossime settimane inizieranno i lavori nell'area non coltivata Per la costruzione di due nuove strutture per un costo totale di 5 milioni e 430 mila euro I lavori sono già stati affidati Un finanziamento che è in copartecipazione con il comune di Fano Che ci garantirà appunto di realizzare una struttura molto importante con una capacità di 6 aule Di cui due andranno al nido quindi verranno destinate ai bambini dallo 0 ai 3 anni E le altre 4 invece saranno di scuola materna Sarà una struttura con una finalità ben precisa per cui i tecnici proprio del comune di Fano Che ringrazio per il prezioso lavoro che hanno fatto Una struttura che metterà al centro il bambino Il ruolo educativo ma anche di scambio di relazioni Perché creerà proprio un'area verde che sarà di interscambio Oltre questo all'interno di ogni aula Proprio ogni bambino avrà la possibilità di vivere un bel rapporto con l'ambiente Perché avrà uno spazio destinato appunto al verde in prossimità del suo perimetro E' l'obiettivo di questo intervento anche quello di dargli una certa sostenibilità da questo punto di vista Proprio perché va nella direzione con cui stiamo costruendo anche la maggior parte degli edifici Una struttura moderna, innovativa e sicura che accoglierà tutti i bambini e le bambine del territorio Una nuova struttura Cucurano in grado di accogliere non solo le attuali quattro sezioni delle scuole dell'infanzia statali Di Cucurano, Carrara e Falcinetto ma anche due nuove sezioni di esilo nido Un servizio che in questi anni Cucurano non ha mai avuto a disposizione Una scelta quindi importante che si integra con quella non meno significativa di avere una nuova cucina Che produrrà fino a 400 pasti e una sala rifezione da quasi 200 posti Un intervento quindi molto importante che si va ad aggiungere ai cantieri che stiamo per aprire anche nei quartieri di Vallato e Bellocchi Per la realizzazione di nuovi asili nido I lavori avranno una durata di circa due anni Infatti nell'aprile 2025 la struttura dovrà essere consegnata alla città Il primo concetto impegni vanno mantenuti Con questa realizzazione manteniamo ad un impegno che ci siamo presi sin dall'inizio del mio mandato Facendo allora una scelta di cambiare un obiettivo che si erano dati con l'amministrazione precedente Se non ci fosse stato quel passaggio oggi non saremmo qua a fare la posa della prima pietra Il secondo aspetto che è una scelta anche questa di dotare tutte le nostre strutture scolastiche Che sono la base della crescita e della formazione delle nostre bambine, dei nostri bambini, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi E' quella di avere strutture adeguate, moderne, con laboratori, con tutte quelle strumentazioni che devono esserci Perché altrimenti non tutte le bambine e i bambini hanno le stesse opportunità Quando le strutture non sono ugualmente adeguate in tutto il nostro territorio Una struttura adeguata, moderna, che crea pari opportunità e pari disponibilità per le nostre bambine e i bambini E quindi è una giornata importante e non nascondo la soddisfazione e l'orgoglio Per questa ulteriore realizzazione in questa città che continua a crescere giorno dopo giorno Ed ora passiamo all'operazione denominata Spettro Conclusa dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino Che ha portato alla denuncia di cinque familiari per reati tributari, fallimentari, bancari e di riciclaggio Queste persone ricoprivano incarichi diversi all'interno di una Ollus operante nel settore socioassistenziale E di una società di servizi, entrambi aventi la stessa sede Le indagini hanno riguardato fatture dalla società di servizi in addempiente a livello civilistico e fiscale Alla Ollus in due annualità per quasi 700 mila euro e gonfiate ad hoc Sia per generare crediti fiscali inesistenti Sia per eludere la normativa che limita la distribuzione degli utili ai soci Il GIP del Tribunale di Urbino ha emesso un decreto di sequestro preventivo Per quasi un milione di euro di liquidità finanziare Beni preziosi, quote societarie, tre autovetture, immobili e terreni nella disponibilità degli indagati Inoltre uno di loro è stato anche denunciato perché il suo villino adibito a residenza In realtà a livello catastale è censito come capanno agricola Mentre gli abitanti di Fenile si preparano a protestare sabato pomeriggio contro le maxi antenne di telefonia Oggi l'assessore Cora Fattori è intervenuta di nuovo sull'argomento Annunciando il coinvolgimento di una società per redigere un nuovo regolamento E provvedere alla mappatura e alla misurazione periodica dell'inquinamento elettromagnetico Facciamo un po' di chiarezza sul tema delle antenne Il tema delle antenne è un tema cogente oggi ma che in realtà si è sviluppato ed è nato tanti anni fa Nel 2006 non a caso il Comune di Fano tra i primi ha fatto un piano per le antenne nel 2016 il regolamento Nell'ultimo anno e mezzo ci sono stati degli sviluppi normativi che rendono difficile l'attuazione del regolamento precedente Ora in base a questo riusciamo a capire perché non solo a Fano ma in tutto territorio locale, nazionale Vediamo Pesaro e vediamo anche gli altri territori a noi limitrofi e anche in giro per l'Italia C'è il problema delle antenne Operatori che inseriscono le antenne in luoghi che non sono deputati idoni dal Comune Il Comune come il Comune di Fano fa causa e la perde Noi abbiamo visto che abbiamo perso due cause al TAR anche adesso Stiamo pagando le spese legali Non possiamo continuare così Di contro abbiamo giustamente i comitati come Alfenile e come a Carignano e altri probabilmente ne nasceranno Che insurgono e protestano e hanno ragione e fanno bene Cosa significa? Significa che bisogna fare qualcosa di completo e analizzare la situazione in modo pragmatico e tecnico E così abbiamo fatto Abbiamo chiamato Polab una società a cui daremo l'incarico Adesso dobbiamo preparare una delibera di giunta per fare rapidamente questa sintesi E Polab come società dovrà redigere un nuovo regolamento che adatti quello precedente e lo renda adatto al nuovo sviluppo normativo Non solo, gli chiederemo delle cose in più Delle cose in più a tutela dei cittadini e del territorio che aiuti noi a governare il territorio Quindi una mappatura dell'inquinamento elettromagnetico e della copertura delle antenne Poi chiederemo una misurazione periodica dell'inquinamento elettromagnetico Che pubblicheremo sul sito in modo che ognuno possa dire Bene, io sono in questo punto della città Che inquinamento c'è? E questa è una tutela Non solo, gli abbiamo chiesto anche di darci la disponibilità per delle conferenze e dei convegni Ci è piaciuta come società per due motivi La grande professionalità, il fatto che stanno operando anche a Pesaro Ed è bene omogeneizzare il territorio Dal punto di vista ambientale dobbiamo abituarci a trattare queste tematiche in maniera sincrona In più è una società che non ha mai lavorato né con i comitati né con le Equit Tower Company Ma sempre con le amministrazioni E questo dal mio punto di vista è garanzia di equità ed è quello che ci serve in questo momento Dopodiché ci darà anche assistenza per la redazione delle pratiche Questo è quello che vuole fare il Comune di Fano per affrontare il tema, per gestirlo al meglio Veniamo al problema di questi giorni, che è le antenne di Carignano Uso il plurale perché? Perché una è stata costruita e realizzata Per l'altra è stata presentata una domanda Ora il Comune di Fano è riuscito a fermare temporaneamente la domanda Perché? Perché in passato Iliad, che è la società che aveva fatto la richiesta Aveva inserito come sito un sito che tramite delibera del Consiglio Comunale Avevamo reso idoneo anche a seguito di un confronto con Iliad stessa Ed era un sito che si trovava nella zona industriale Ben a un chilometro di distanza da dove è stata presentata l'attuale domanda Reso idoneo quel sito che era quello individuato dal piano delle antenne Che ogni compagnia presenta a inizio anno E in seguito al quale noi un attimo capiamo come poter interloquire Gestire le domande dell'operatore È stata presentata la domanda specifica per l'antenna davanti al cante di Montevecchio Che non era assolutamente il sito che noi avevamo richiesto Usando lo stesso codice di domanda Quindi è forse una cosa tecnica un po' complessa Però il punto è che noi abbiamo per questo motivo fatto una domanda di integrazione a Iliad Chiedendo come mai avesse deciso di cambiare il sito E quindi la pratica è temporaneamente ferma Speriamo di non dover andare in giudizio Speriamo nel frattempo di riuscire ad attivare tutto questo processo di gestione del territorio al meglio Purtroppo il comune di Fano come altri comuni si ritrova con le armi un po' spunte Ma non ci diamo per vinti E i comitati servono tantissimo per individuare alcune criticità e darci manforte Per la prima volta il giudice ha dato ragione ad un cittadino e torto all'ASET Sul ricorso presentato contro l'aumento retroattivo delle bollette dell'acqua applicato per tutto il 2018 Prima il giudice di pace e poi il tribunale di Pesaro Hanno convalidato la tesi sostenute dal Movimento 5 Stelle e Bene Comune Che ora chiedono l'avvio dei rimborsi Sentiamo Per chiedere il beneficio, non era stato fatto automaticamente Avevamo ragione noi, con questo incipit il Movimento 5 Stelle Ha vinto un ricorso presentato nel tribunale di Pesaro Per quanto riguarda l'aumento di alcune tariffe dell'acqua retroattive che l'ASET aveva applicato nel 2018 Andrea Serafini, rappresentante territoriale del Movimento Avevate veramente ragione voi? Come i cittadini ricorderanno, ad aprile del 2019 nella bolletta del primo trimestre è arrivato un conguaglio molto sostanzioso per alcuni di essi Derivante dalla rimodulazione della tariffa dell'acqua e da un aumento della stessa tariffa che è stato calcolato in maniera retroattiva e quindi accumulando fin dal primo gennaio del 2018 Quindi accumulando l'importo di un intero anno Chiaramente noi abbiamo subito rilevato che l'applicazione retroattiva di una tariffa di un servizio pubblico è illegittima L'unico provvedimento che era stato preso era quello di fare una rateazione, peraltro neanche spontanea ma i cittadini dovevano recarsi negli uffici dell'ASET per chiedere la rateazione Quindi alla fine un cittadino, grazie all'assistenza dell'avvocato Matteo Giuliani che Movimento 5 Stelle e Bene Comune hanno messo a disposizione Ha fatto ricorso a giudice di pace, questo ricorso è stato vinto, nonostante ciò ASET ha fatto appello al Tribunale di Pesaro E anche il Tribunale di Pesaro ha dato ragione a questo cittadino per cui adesso è pacifico che i cittadini hanno diritto a un rimborso di quel conguaglio Che è stato addibitato illegittimamente nelle bollette dell'acqua e pertanto chiediamo che ASET e il Comune che esercita il controllo su questa società partecipata La società controlla l'analogo da parte del Comune si attivino per spontaneamente rimborsare i cittadini di quanto gli è stato ingiustamente addibitato Le argomentazioni che hanno così ottenuto il consenso del giudice? Dal punto di vista del diritto è chiaro un principio generale dell'ordinamento, la legge non dispone che per l'avvenire Quindi in linea generale legge e regolamenti amministrativi non possono essere applicate retrativamente Una norma speciale per quanto riguarda le tariffe ai prezzi pubblici prevede che se approvati entro il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali Le tariffe dei servizi pubblici locali possono avere effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso Ma in questo caso siamo andati ben oltre il termine perché il termine era il 31 marzo del 2018 e invece le tariffe sono state approvate a fine anno sostanzialmente Quindi non c'erano assolutamente i presupposti per questa applicazione retrativa Richiediamo dopo 4 anni che i cittadini aspettano veramente al Consiglio Comunale che è l'organo di indirizzo politico e all'azienda Ma soprattutto al Consiglio Comunale di fare finalmente un gesto di sinistra e riconoscere i diritti dei cittadini che sono stati violati L'ente pubblico deve rispettare in modo assoluto i diritti dei cittadini L'accesso a servizi adeguati dovrebbe essere un diritto inalienabile e non dovrebbe essere ostacolato dalla burocrazia Lo ha scritto in una nota Fratelli d'Italia Fano che ha espresso preoccupazione e delusione per la situazione vissuta dalla famiglia fanese di Maria Luisa Che sta cercando di garantire al proprio figlio Tommaso il diritto di frequentare il centro Il Mosaico di Orciano Il problema è iniziato con i servizi sociali perché quello che doveva essere un processo semplice si è trasformato in un'odissea Infatti, prosegue il partito, il Comune ha affermato che la famiglia non può scegliere Sosteniamo con forza il diritto di Tommaso e di tutte le persone con disabilità Ha aggiunto Fratelli d'Italia E poter scegliere il percorso educativo e di sviluppo che meglio si adatta alle loro esigenze e desideri Chiediamo al Sindaco di considerare questa situazione e di agire nel miglior interesse di Tommaso e di tutti i disabili Invece Gianluca Ilari della Lega Fano è intervenuto sulle imbarcazioni da pesca della marineria fanese Che sono costrette a fare rimessaggio altrove Il consigliere comunale chiede che si autorizzi il servizio nel porto turistico E sollecita la Giunta a farsi carico del problema Sentiamo La marineria fanese rappresenta un'eccellenza per la nostra città Ci sono però delle difficoltà che stanno spingendo i nostri marinai a portare le imbarcazioni altrove Per quale motivo? La flotta di Fano conta circa 60 unità Quindi potete immaginare quante imbarcazioni hanno bisogno di fare delle manutenzioni In questo caso stiamo parlando del rimessaggio Che altro non è che portare la barca fuori dall'acqua per poter pulire Si chiama in gergo opera viva Ovvero la parte che è immersa nell'acqua Quindi viene tirata fuori dall'acqua Si pulisce per fare in modo che si idonea alla navigazione in qualsiasi momento Questa operazione è un'operazione di routine E che deve essere fatta sia essere un'imbarcazione da di porto professionale O professionale E quindi ci sono dei tempi tecnici che devono essere rispettati Per far sì che l'imbarcazione sia poi idonea alla navigazione Cosa succede? Succede che a Fano questo servizio Ovvero quello del rimessaggio per le imbarcazioni commerciali e professionali Oggi è gestito attraverso il vecchio squero Così come si chiama in dialetto fanese Ovvero lo scivolo dall'agio che c'è in prossimità del lungomare mediterraneo Questo servizio è già un ottimo servizio Purtroppo gli spazi ridotti assieme a un sistema di sollevamento delle imbarcazioni Che non è idoneo a tutte le tipologie costruttive di imbarcazione Fa sì che almeno 20 o 25 imbarcazioni debbano andare a fare questa operazione Quindi questo rimessaggio altrove Sostenendo dei costi aggiuntivi legati al trasferimento dell'imbarcazione Legato anche allo stesso costo del rimessaggio Perché in questi porti si paga di più di quello che si potrebbe pagare a Fano Appunto perché non c'è una struttura in teoria In grado di poter supplire a questa mancanza Perché a Fano c'è in realtà un luogo idoneo Ed è sostanzialmente il travel lift che noi abbiamo Nella Marina dei Cesari nel porto turistico della città Quel luogo ad oggi si è adibito esclusivamente alla marineria da di porto Cosa significa? Significa che se io ho un'imbarcazione con la quale non lavoro E quindi la tengo nella Marina dei Cesari Oppure vengo da qualsiasi altro porto d'Italia Posso utilizzare quell'infrastruttura Posso utilizzare il travel lift Posso utilizzare il piazzale E posso fare tutti i lavori della mia barca Qualora invece io lavori con la mia imbarcazione Come in realtà fanno i nostri marinai Perché vanno a pesca e ci portano il prodotto sulle nostre tavole Appartengono ad un'altra categoria E in questo caso pare che lì non si possa appunto fare questo tipo di servizio Questo cosa comporta in realtà? Innanzitutto considerando i costi 20 o 25 bar che comunque siano indotto da circa 100-200 mila euro all'anno Che la marineria di Fano spende altrove Piuttosto che spendere a Fano Avremo una continuità di servizio Perché le aziende che militano sul nostro territorio Sono già in grado di poterlo fare Quindi non farebbero altro che allungare Dare ancora continuità lavorativa E continuità anche di posti di lavoro Durante la stagione invernale E potremo sfruttare i piazzali che ci sono Proprio per velocizzare questo processo Perché più posto ho Più riesco a lavorare barche contemporaneamente Meno tempo la barca sta fuori dall'acqua E meno tempo la barca spreca lavorativamente per l'anno In questo caso qual è l'organo competente? Chi deve intervenire? L'organo competente dovrebbe essere la Capitaneria di Porto Insieme però al Comune di Fano In quanto relatore nei confronti del demanio Oggi chiediamo all'amministrazione comunale Di farsi carico di questo tema Perché crediamo che sia un segnale importante Da dare alla marineria E quindi aiutarci a capire se è possibile dare un segnale positivo E accettare questa loro richiesta A Fano nel periodo gennaio-agosto Sono diminuite le presenze turistiche rispetto allo scorso anno Ma sono aumentati gli arrivi Un dato consolante rispetto al segno meno Che ha caratterizzato in senso globale Il consuntivo regionale E rispetto all'aumento di arrivi e presenze degli stranieri Il servizio è di Massimo Foghetti Per la prima volta dopo tanti anni È con il segno meno che la regione Marche Presenta il consuntivo degli arrivi Delle presenze turistiche nel territorio regionale Segno inequivocabile di quanto abbia influito Nella scelta della località Dove trascorrere le loro vacanze L'alluvione Da parte di chi poteva usufruire Di un periodo di riposo Seppure toccate marginalmente dal dissesto geologico Le località marchigiane Hanno sofferto sensibilmente del rilievo Che è stato dato alla notizia a livello nazionale Fa eccezione Fano Che invece rispetto al calo di presenze Del 3,87% Di cui hanno sofferto in particolar modo Le strutture ricettive Bilancia il valore negativo Con un aumento di arrivi Del 2,18% Cui si accompagna un aumento Ancora più vistoso di arrivi e presenze Degli stranieri Gli stranieri Tedeschi Polacchi Inglesi Francesi Sono aumentati non poco Rispetto all'estate del 2022 Questo ha spinto l'assessore al turismo Etienne Lucarelli A convalidare la sua strategia Perseguendo una forma di turismo esperenziale C'è una forte scelta della nostra destinazione Con una grande crescita Siamo circa un più 9% Del turismo straniero Turismo che come sappiamo Arriva dalla Germania Arriva da diverse parti d'Europa Segno insomma Che il lavoro che stiamo facendo E che io dico sempre Deve essere un lavoro corale Deve essere un lavoro Di strategia Dettata dall'amministrazione Insieme al tavolo economico Deve essere Un lavoro fatto dagli imprenditori Che devono continuare a investire nel settore E soprattutto oggi Il turismo è sperenziale Guarda la cultura Guarda la gastronomia Guarda All'outdoor Alla qualità della vita Che può trovare nella nostra destinazione Non guarda soltanto Al balneare Stiamo lavorando a questo E con questo dobbiamo spingere Una forte promozione Quello che faremo nei prossimi mesi E il dato che ci arriva oggi Che in tutto questo lavoro Insomma Fano È apprezzata Che cosa è più importante Il numero delle presenze O quello degli arrivi Dubbiamente il numero delle presenze Perché il numero di notti Che una persona sta qua Ma è fondamentale anche il dato degli arrivi Faccio un esempio Una persona arriva e sta qua Tre notti di media Ovviamente spende qua tre notti Quindi il dato delle presenze È molto importante Ma avere un dato d'arrivi positivo Significa che c'è una scelta Della nostra destinazione Poi purtroppo sappiamo quest'anno Che con l'aumento di mutui L'aumento di inflazione Le persone sono state un po' meno Il numero degli arrivi Ci sta dicendo che questa strategia Sta funzionando Adesso siamo pronti A fare una promozione forte Nei mercati Anche esteri Grazie ai voli che abbiamo Che arrivano direttamente in Ancona Siamo pronti a portare le persone Nella nostra città E siamo pronti a fargli vivere Ciò che veramente siamo Ciò che è la città di Fano Si è parlato molto di allungare La stagione turistica A che punto siamo? La chiave sta qui Perché è chiaro Che a luglio e agosto Le nostre strutture sono già piene Devo dire che i dati ci confermano Che abbiamo bisogno di migliorare Anzi di ampliare le strutture Quindi dobbiamo attrarre Anche nuovi investitori Alberghieri soprattutto Che possono dare maggiore qualità Anche della proposta ricettiva E poi ovviamente Il turismo culturale Il turismo odore Il turismo gastronomico Ma come si sta vedendo In questi giorni Che ci aiuta a far vivere I mesi di settembre-ottobre Che ad esempio Con questo bellissimo clima Sono stati molto positivi Anche ricchi di presenze E anche i mesi primaverili Come lo sono marzo-aprile Perché sono mesi Che possono veramente Far crescere i numeri Del turismo della nostra città Ed ora parliamo di mobilità Casa-lavoro Perché 1700 lavoratori Della zona industriale di Bellocchi Compileranno un questionario online Per parlare delle loro abitudini L'iniziativa è stata avviata Nelle aziende Che nei giorni scorsi Hanno firmato il protocollo Per la mobilità di distretto Un progetto che vede Techfem come capofila Ma che annovera Tra le aziende Che hanno siglato il patto Anche Profilglas Fano Center Ami Adriabus E Aset Il tutto con la collaborazione Del comune di Fano I dati verranno poi analizzati Per migliorare la mobilità dell'aria E nel mese di dicembre Il tutto sarà condiviso Con il comune Si intitola Chi non ha paura Ed è il titolo Del nuovo progetto Dell'associazione Vivere il Poderino Che organizza Una serie di iniziative Coinvolgendo insegnanti Genitori E ragazzi Dopo i numerosi eventi Organizzati durante l'estate L'associazione Vivere il Poderino Ha ideato il progetto Chi non ha paura Di che cosa si tratta E a chi è rivolto Chi non ha paura È un progetto molto importante Che parte dai ragazzi I ragazzi che frequentano I nostri quartieri Ma che in questo caso Creano delle paure Delle paure improprie Forse Ma avevamo bisogno Di analizzare queste paure In che modo Potevamo affrontarle L'associazione Vivere il Poderino Si impegna In un progetto importante Che entra Nel progetto Ancora più importante Che portiamo avanti Ormai Da 5-6 anni Che è quello Di formare Una comunità Educante Quindi Chi non ha paura Le paure Le paure Dei genitori Le paure Dei ragazzi Le paure Degli anziani Le affrontiamo All'interno Di una comunità Educante Che sarebbe Una serie Di comportamenti Solidali E collaborativi Formato E fatta Dagli abitanti Di un luogo Che a cui Hanno a cuore Ovviamente Il luogo dove vivono E sentono La responsabilità Di viverlo Quindi È una comunità Che cresce Intorno ai ragazzi Cresce con loro E non solo Per loro Quindi È molto diverso Il CON Perché il CON Presume È proprio la presenza La spiegazione E la costanza Della vicinanza E l'impegno Quindi io Mi rivolgo Sia agli abitanti Del poderino Ma anche proprio Tutta la cittadinanza A pensare A un concetto nuovo Di vivere I problemi E le paure Perché le paure Esistono Esistono da sempre E noi viviamo Un mondo pieno Di paure Però Condivise E magari Affrontate insieme In un concetto Nuovo Di comunità Acquisiscono Un valore diverso E vengono affrontate In maniera diversa E molto più Consapevole Quando partirà E come verrà suddiviso Questo progetto Il progetto partirà Entro il mese di novembre E si concluderà Verso la primavera Prevede tre fasi E la prima fase Prevede una formazione Degli insegnanti All'interno Dell'istituto comprensivo Nuti Con la Dottoressa Cristiana Santini E la scrittrice Paola Turroni Praticamente Provederanno A fare una formazione Agli insegnanti E gli insegnanti Nella seconda fase Convolgeranno I ragazzi Che vorranno Partecipare al progetto Con degli elaborati Grafici In modo da poter Rappresentare Le loro paure Attraverso questi La terza fase Prevede L'intervento Di Giulia Coniglio Un artista Con lei I ragazzi Inizieranno a lavorare Fuori Dall'istituto comprensivo E precisamente Per Il parco Detto il parco buio Che è il parco Quello insomma Incriminato Di via Piemonte All'interno Di questa Questa fase I ragazzi Saranno liberi Di poter creare E manifestare La loro parte Artistica Emotiva Attraverso delle opere Che decideranno Poi loro Quali fare E questa sera Apriamo la nostra Nuova rubrica Che vi proporremo Ogni mercoledì Dedicata all'arte E alla cultura Partiamo Da una mostra Fotografica Allestita Nel palazzo Bracci Pagani Intitolata Passeggiate fotografiche Curata dal Fotografo Paolo Taleni Servizio Di Cristiana Guerra Si intitola Passeggiate fotografiche La mostra inaugurata Sabato 14 ottobre A Palazzo Bracci Pagani Ad essere esposti I migliori scatti fotografici Di 5 partecipanti Al corso annuale Di fotografia Che quest'anno Ha un tema singolare E intimo Allo stesso tempo Esprimere attraverso L'arte fotografica I propri sentimenti Quindi raccontare Qualcosa di se stessi Curatore della mostra Paolo Tallevi Con l'organizzazione Dell'Università dei Saperi Giulio Grimaldi Di Fano E con la collaborazione Della Fondazione Carifano La mostra Sarà visitabile Fino al 25 ottobre Dalle 17.30 Alle 19.30 Tranne il lunedì Passeggiare E con lo sguardo Cogliere varie situazioni Di calma Di tranquillità E stare attenti A tutto ciò Che circonda La nostra città Le foto alle mie spalle Sono di Tim Cooper E lui ha scelto Di fotografare Tutti i cartelli stradali Che indicano L'entrata a Fano Parliamo di questo Corso fotografico Un ciclo Di dieci lezioni Sulla fotografia Dopo un primo incontro Ognuno sceglie Il proprio argomento Il proprio soggetto E poi noi ci rivediamo Il sabato pomeriggio Dopo una settimana E insieme guardiamo Cosa è stato realizzato Come è cambiata la fotografia Nel tempo È cambiata moltissimo Adesso La fotografia È completamente digitale E addirittura Se pensiamo Che con un telefonino Oggi girano anche film La cosa è cambiata Proprio a livello Di giorno alla notte Rita qual è la città Di oggetto di queste foto Allora queste foto Sono di Vieste E Peschici Da quante foto hai esposto? Allora ho esposto 12 foto E praticamente Rappresentano La street photography In bianco e nero E mi piace fare Ecco queste foto Alle persone Alle cose Più che altro alle persone Ma senza che se ne accorgano Giustamente Da qualche parte In fondo all'anima Noi donne ricordiamo Un'epoca in cui la divinità Era chiamata Dea e madre Da questa frase Partono le sue fotografie Sì La Dea madre Questa statuina È una dea Che avevo trovato Ovviamente la coppia A Malta Ed è una dea Che veniva Si trovava In questo tempio Del Neolitico La mia Praticamente Sta a simbolizzare La nascita La morte E la rinascita E la mia idea È stata quella Un po' Di riportarla fuori Un po' Dal suo contesto E riportarla Un po' Nel mio mondo Nel contesto Di Fano Infatti ci sono Delle foto Dove ce l'hai Ritrata su Fano E nelle bellezze E nelle brutture Poi della nostra Città E di quello Che ci circonda E vi ricordo La notizia Vi lascio Alle previsioni Del tempo E a seguire Ad uno speciale Realizzato al TTG di Rimini La manifestazione Italiana di riferimento Per la promozione Del turismo Grazie per essere Stati con noi E buon proseguimento Di serata Grazie a tutti